Bene trader, bentornato in questo nuovo video, il secondo episodio del corso, chiamiamolo così, sulla strategia Fair Value Gap, come si può utilizzare per poter fare operatività, come l'ho utilizzata in questo case study per creare questa strategia di trading intraday che ha portato a casa un super profitto gigantesco in solo un giorno, grazie anche ovviamente ai movimenti di Bitcoin, però è stata creata con la tecnica del Fair Value Gap, per chi si fosse collegato solo ora questo è il secondo episodio di un video che dovete assolutamente andare a vedere, vi metto il link sulla mia testa per quanto riguarda il video e vi ricordo anche tra le altre cose che è un video sponsorizzato anche da BitGet che ci consente appunto di fare anche questi video di contenuto elevatissimo ragazzi, grazie appunto alle sue sponsorizzazioni, vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda l'exchange di criptovalute BitGet, uno degli exchange che sta dando più soddisfazione in questi ultimi anni per quanto riguarda il trading, soprattutto per la parte legata al settore dei future che ci consente di poter operare su tutte le criptovalute utilizzando i future, utilizzando la leva, utilizzando lo short selling e facendo quindi una serie di attività anche con una piattaforma abbastanza evoluta e soprattutto molto molto friendly nell'interfaccia anche da smartphone e anche molto friendly nell'utilizzo e nella velocità degli ordini che poi è fondamentale, per esempio riesce a fare gli ordini cumulati, gli ordini condizionati, i trailing stop, stop loss aggiunti anche dopo che abbiamo fatto l'operazione ovviamente sempre sui future, insomma una piattaforma che è diventata big in Italia, vi lascio il link in descrizione, grazie a loro appunto riusciamo a portare avanti anche questi contenuti. Nel briefing precedente del video precedente eravamo rimasti un po' a tutto quello che è la teoria del fair value gap, quella dove si basa, vi ho fatto vedere il case study della mia operazione in real time fatta in pratica entro un giorno da quando stavo registrando quel video nella prima episodio, vi ho fatto vedere il case study per spiegarvi un po' com'era e poi ci siamo lasciati con questa domanda qui quali metodi possiamo utilizzare per trarre profitto da queste informazioni, le informazioni studiate nel fair value gap. Un piccolo briefing per chi si è collegato solo adesso, il fair value gap è una strategia di smart money trading ed è una strategia che ci dice che in pratica quando i prezzi fanno dei gap, cioè dei movimenti molto veloci e molto ampi di prezzo sostanzialmente c'è una buona probabilità, una probabilità interessante chiamiamola così che il mercato possa ritornare sui suoi passi e quindi riempire quei vuoti che lascia, sostanzialmente vi ho fatto vedere anche questo esempio qui, ve lo ripropongo in questo caso questa candela è molto gigante, queste verdi 2 e questa rossa qui sono dei fair value gap e quindi la teoria dice che questa candela essendo stato uno spostamento da un punto A a un punto B molto veloce e molto ampio ha molta probabilità che il mercato possa ritornare sui suoi passi come fa, vedete, in questa situazione qui intanto riempie questo fair value gap anche in questo caso, per esempio, questa è la parte ribassista, vedete, qui ha tentato un riempimento del fair value gap dal basso quindi questi sono fair value gap al rialzo, questi al ribasso FWG per gli amanti ragazzi, ma prima di andare avanti e passare quindi a quali sono le tecniche da utilizzare, oggi vediamo tutti i metodi, gli esempi pratici anche sul grafico vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni, mi date una mano, questi sono video impegnativi ragazzi quindi mi raccomando su con i pollici perché vi portate a casa un super contenuto gratuito e di grandissimo valore per chi è già formato, per chi sa come muoversi e sa come sfruttare queste cose allora, come tradare un FWG? Punto primo, ci sono diverse tecniche una tecnica è proprio quella dei diamanti del contro trend, va bene? prima tecnica, acquisto di un FWG per bilanciamento di un FWG ribassista tecnica contro trend, in pratica cosa sarebbe ragazzi, ora vi faccio vedere le figure quando si avviene un FWG ribassista, che è quello creato da una candela rossa, non da una candela verde io attendo una fase di stabilizzazione e vado contro trend se il mercato sta scendendo io che faccio? Compro perché penso che il mercato debba risalire a colmare appunto l'FWG, a riempirlo e quindi in questo caso vado a fare un trend, vado in versione appunto contro trend qual è la situazione? Allora, qui vi ho fatto degli esempi abbastanza chiari allora, qui si vanno a realizzare due FWG su Bitcoin questo è Bitcoin dollaro a 4 ore e qui siamo intorno ad agosto, se non sbaglio, del 2023 allora, si sono andate a creare due candele FWG questa qui che è la prima, le FWG di solito sono candele che hanno anche delle candele prima e dopo più piccoline come queste qui, quindi questi sono due FWG perfetti ragazzi uno e due quello gigantesco che fece poi i minimi in questa zona se non erro appunto intorno alla prima metà di agosto e anche in questo caso ci sono andate a creare due FWG di natura ribassista quindi la prima tecnica che vi sto dicendo è quella di cercare un'area di appoggio di questo movimento ribassista per acquistare Bitcoin nell'idea che questi gap, questi fair value gap debbano essere poi ricoperti in pratica e debbano andare ad essere colmati sostanzialmente avviene questo qui si genera una barra di congestione che è una barra di accumulazione e si può agire appunto in questa zona con questa tecnica attendendo un segnale di inversione per comprare Bitcoin aspettando che poi gli FWG vengano ricoperti e sono stati ricoperti, vedete, poi intorno al 29-30 di agosto in questa zona con una candela è stato ricoperto l'intero FWG il secondo e il primo è stato ricoperto con la candela successiva anche se non in toto solo per una parte quindi in pratica, vedete, qui abbiamo per spezzettare la parte operativa FWG1, FWG2 a un certo punto si va a creare una barra di congestione che è una creazione appunto di un'area di riaccumulazione io l'ho definita così questa area di congestione ha un breakout sul breakout c'è un segnale di ingresso in questa candela qui intorno per esempio a 26.450 più o meno una media, facendo una media cosa succede? che attendendo la ricopertura dell'FWG questa candela non ricopre FWG perché vedete non entra proprio nell'area come si crea l'area? bisogna prendere quelli che sono le candele precedenti e la candela successiva e si prende in un FWG ribassista il minimo della candela precedente e parte la prima linea poi si prende il massimo della candela successiva e parte la seconda linea e si crea il rettangolo quindi in pratica vedete come è creato il rettangolo tra il minimo della candela precedente e il massimo della successiva e si genera la fair value gap quindi il gap per quanto riguarda il rialzo è al contrario quindi un fair value gap rialzista è il massimo della candela qui si è generato per esempio un fair value gap rialzista il massimo della candela precedente ed il minimo della successiva quindi in questo caso 1 e 2 si genererebbe il fair value gap cosa succede? che qui quando il mercato va a ricoprire il primo gap e il secondo gap io ho segnale di uscita per il FWG2 segnale di uscita per FWG1 e faccio un buon profitto anche perché il mercato passerà sostanzialmente da 26.250-26.3 a circa 28.2 in questa parte 27.4 in questa parte quindi vado a realizzare anche un po' un profitto come d'altra onda è stato fatto qui vedete ragazzi qui è stato fatto nell'operazione live che vi ho fatto vedere anche nel precedente video è stato creato proprio l'FWG di questa candela vediamo se riesco a disegnarvi il rettangolo questa candela qui era tutta un FWG però di natura rialzista eccola qui ok si è andata a creare questa aria io ho tradato quando è stato ricoperto però non ho tradato ragazzi la tecnica che vi sto dicendo in questo momento cioè quella contro trend io ho tradato quello a favore di trend che adesso vediamo però la candela la zona di fair value gap si crea appunto in questo in questo modo andando avanti seconda strategia quindi vendita per bilanciamento di un FWG rialzista tecnica contro trend l'esempio lo facciamo direttamente sul grafico e ve lo faccio sul grafico in questione ora se io volevo fare questa tecnica del bilanciamento contro trend della rialzista di un FWG rialzista qui avrei dovuto fare non un long ragazzi bensì uno short cioè in pratica quando il mercato è andato a creare questa zona che possiamo identificare in questo punto qua io qui potevo andare idealmente a crearmi degli short in questa candela ora perché non era conveniente in questo caso perché lo spazio dalla creazione di questa zona di distribuzione chiamiamola così era troppo piccolo rispetto allo spazio dell'FWG c'era poca distanza in pratica per colmare in effetti qui il mercato l'FWG lo tocca e poi riparte quindi sostanzialmente questa operatività anche se corretta non avrebbe portato beneficio in questo caso ma è un caso perché per esempio se andiamo indietro ci sono anche altre situazioni dove possiamo vedere queste cose vi faccio un altro esempio grafico eccolo qui allora ragazzi questa è l'operazione che vi ho fatto vedere prima quella per l'esempio ma qui c'è un FWG rialzista vedete qui si va a creare un FWG rialzista dove in questo punto eccola qua questa è una candela che è un FWG rialzista che io posso andare a disegnare in questo modo uno e due quindi unendo in questo caso essendo un FWG rialzista unisco il minimo della candela successiva con il massimo della candela precedente e mi genero il mio quadratone gigante il mio rettangolone gigante a questo punto cosa succede qua guardate un po' quello che succede in questa zona si va a creare una barra di congestione che può essere definibile come una zona di distribuzione se io voglio utilizzare questa tecnica vendita per il bilanciamento di un FWG rialzista contro trend vado in pratica in questo punto con il breakout avvenuto io lo faccio sempre attendo sempre un'inversione di trend questo ormai lo sapete e vado short e aspetto che questo rettangolo venga colmato cosa che poi è avvenuta vedete in questa zona qui quindi in pratica qui avremmo avuto uno short in questo punto in questa zona ricoperto qui in questa zona con un guadagno anche qui abbastanza notevole da 30.000 28.2 circa anche in questo caso vi ho fatto vedere l'FWG rialzista con la tecnica di ricopertura queste sono tecniche contro trend con tutti i rischi del contro trend però hanno una logica in quanto l'FWG che deve essere ricoperto ci può stare con questa logica ragazzi fermo restando che voi aspettiate sempre un'inversione di trend come vi ho fatto vedere quindi prima la realizzazione di una congestione quindi una barra di distribuzione accumulazione dopo l'inversione di trend quindi il breakout di quella barra andate a favore di quel mini trend che si sta creando fino al punto dell'FWG se non lo ricopre riparte prima contro trend stop loss trailing stop ricordatevi che queste tecniche non sono esenti di errori anzi molto spesso può capitare che il mercato riparta prima soprattutto se fate contro trend perciò dovete ricordarvi sempre comunque di gestire questa operatività in trailing stop considerando anche che stiamo facendo degli esempi di natura di breve periodo terzo tecnica acquisto successivo al bilanciamento di un FWG rialzista questa è una tecnica invece trend follower ed è proprio quella che ho utilizzato io nella operazione con BitGet ragazzi io non ho fatto una vendita dell'FWG rialzista per la ricopertura ma ho aspettato la ricopertura quindi successiva appunto al bilanciamento di un FWG ho aspettato che l'FWG venisse ricoperto che è fatto in questo punto ho accumulato e sono andato trend follower quindi in pratica ho fatto un acquisto contro trend di breve perché qui era laterale ma a favore del trend principale e in questo caso io sono più trend follower lo sapete ho portato a casa il profitto che vi ho fatto vedere proprio nella scorsa operazione anche questo è molto semplice come avviene aspettare che il trend che il mercato vada a ricoprire l'FWG se va a ricoprire l'FWG poi attendere in questa zona che ci sia una inversione di prezzo fatta così e andare long a favore io in questo caso ho utilizzato appunto questa tecnica accumulando vedete i singoli ordini fino all'ultimo che è stato qui ho accumulato in queste zone ho aspettato un'inversione se il mercato non mi dava ragione e riscendeva all'interno di questa area io potevo gestirmi fino ad un massimo di questa zona fino a qui insomma per essere precisi lo stop loss e da qui avrei chiuso l'operazione in stop loss perché in questo caso magari la tecnica che vi sto spiegando non andava a buon fine quarto tecnica vendita successiva al bilanciamento di un FWG ribassista tecnica trend follower esempio grafico anche in questo caso allora andiamo a vedere gli FWG ribassisti ragazzi allora l'FWG ribassista che era avvenuto qui per esempio vi faccio vedere 1 e 2 io potevo attendere la ricopertura come è avvenuto in questo caso e poi in questo caso e poi aspettare l'inversione in questo caso cosa succede una roba del genere qui mi fa la barra una minima barra segnale short vado short a favore di trend perché qui il trend era ribassista io dico vado a favore di trend dell'FWG ribassista e prendo questa zona qui la gestione del profitto degli FWG con la tecnica 3 e 4 che sono quelle a favore di trend quindi trend follower vanno poi gestite successivamente con un take profit diverso rispetto all'FWG quindi l'FWG nel caso delle tecniche trend follower vi serve come zona di partenza dove accumulare dove acquistare o fare short selling mentre nelle operazioni che vi ho fatto vedere la 1 e la 2 quelle che erano quelle contro trend queste qui la 1 quindi bilanciamento di un FWG di bassista tecnica contro trend e la 2 tecnica contro trend in questo caso l'FWG l'area per value gap serve da take profit quindi sono due cose diverse nel caso della 1 e la 2 noi utilizziamo l'FWG come take profit mentre nel caso del trend follower noi utilizziamo l'FWG come zona di accumulo o di distribuzione se facciamo short selling quindi due logiche differenti ovviamente nel caso trend follower noi dobbiamo avere un'altra tecnica per prendere profitto per le aree FWG tant'è vero che io in questa zona poi ho utilizzato il mio sistema di trailing stop per prendere profitto in questo punto qui andando a vendere l'operazione proprio in questa zona questo è stato gestito da un mio sistema quindi qui non c'entra niente l'FWG la tecnica FWG è stata utilizzata per prendere posizione mentre per uscire ho utilizzato un'altra un'altra tecnica bene siamo arrivati alla fine di queste super lezioni di questa super tecnica vi ho spiegato i quattro modi in cui si possono utilizzare ricordatevi ovviamente tutte le peculiarità poi si possono approfondire questi argomenti ovviamente anche online ragazzi fate commenti anche in questo video scrivete anche al di sotto insomma se avete qualche dubbio o qualcosa vediamo se su youtube qualcosa si può fare vi ricordo anche alcune tecniche piccoline di conferma degli FWG che sono avere il picco di volatilità guardare i volumi per esempio se i volumi non sono tanto ampi all'interno dell'FWG è meglio le conferme cicliche la pratica ed esperienza io di queste quelli che utilizzo di più sono la conferma ciclica e la pratica ed esperienza e un pochino la volatilità nel caso degli FWG di lungo periodo quindi non quelle che vi ho fatto vedere che sono tutte operazioni di brevissimo ma quelle un pochettino più lunghette mentre non uso quasi mai i volumi nell'ambito delle criptovalute o li guardicchio ma non più di tanto perché semplicemente sapete come la penso nell'ambito cripto non sono regolamentati gli exchange quindi guardiamo volumi che sono un po' taroccati a me non piace guardare dati taroccati sono un analista quantitativo quindi nel momento in cui mi mostrate dati che non sono puliti si definisce così non sono filtrati bene non mi piace guardarli perché a volte possono essere parlocchi però riguardo lo stesso ecco l'idea dei volumi è valida e nel mercato delle cripto che è un po' meno valida che è un discorso differente nei mercati hold e regolamentati quindi dove ci sono i future del nasdaq degli sp500 eccetera vanno più che bene insomma ovviamente è un supporto importante approfondimenti dove impostare stop loss e take profit ve l'ho spiegato prima nell'esempio grafico quindi nel caso della tecnica 1 e 2 il file value gap e stop risulta come take profit e nel caso invece della tecnica 3 e 4 il take profit dovete farlo voi sviluppandolo in un altro modo per quanto riguarda invece la questione legata allo stop loss dipende dalla tecnica che è andata a utilizzare nel caso specifico questa tecnica che ho utilizzato qui che è la tecnica 2 in questo caso quindi quella del ribilanciamento di un file value gap con la tecnica contro trend ribassista in questo caso io qui lo stop loss lo metto al di sotto dell'area di riaccumulazione faccio la stessa cosa per quanto riguarda il fair value gap rialzista e lo metto al di sopra dell'area di distribuzione quindi in questo caso in questa zona qua lo tengo qui fermo restando che poi mi piace molto utilizzare i trailing stop con questa strategia anzi vi consiglio ovviamente di utilizzarlo e quindi una volta che la posizione mi ha data approfitto difficilmente lascio lo stop loss e basta e difficilmente attendo e basta l'arrivo al take profit metto subito un trading stop che quasi sempre gestisco con i miei sistemi algoritmici perché questa è una tecnica veloce deve essere fatta poi con determinati criteri e soprattutto quelle contro trend sono molto pericolose per cui vanno gestite con sistemi di uscita molto professionali molto approfonditi e soprattutto multipli non solo uno per esempio lo stop loss o il take profit va bene detto questo vi faccio un riepilogo generale la tecnica del fair value gap per lo smart money trading identificare gli fvg scegliere la tecnica di ingresso fra le quattro che vi ho detto impostate stop e take profit impostate il trading stop se sapete di che stiamo parlando approfondire e personalizzare la strategia questa è una cosa che io vi consiglio di fare perché qui si parla sempre di tecniche e non esiste la perfezione non esiste una cosa che è già stata creata ed è così per tutta la vita non stiamo parlando della fisica dell'universo ma stiamo parlando di cose che possono essere perfezionate e soprattutto possono cambiare nel corso del tempo quindi io vi consiglio vivamente di farle vostre di studiare il concetto che c'è dietro che l'abbiamo studiato nella prima lezione e comprendere alla perfezione come poterle utilizzare nelle vostre strategie fatela diventare un'arma nella vostra strategia ma non la singola arma non il singolo la singola freccia nella vostra al vostro arco ma utilizzatela come una delle tante frecce perché si mischia bene con tante strategie soprattutto quelle holding quelle di lungo periodo ed è interessantissima vi ricordo tra le altre cose che per utilizzare questo tipo di strategie dovete essere formati su trading e investimenti un po' lo dovete essere a prescindere ma in questo caso ancora di più perché sono strategie estremamente complesse e molto tecniche ma ragazzi sono potentissime potentissime perché se usate con mangiate con cura vi danno grandi margini di manovra ringraziamo ancora Bitget per averci regalato queste due lezioni vi lascio il link in descrizione fatemi tutte le domande del caso nei commenti lasciatemi i pollicioni noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.